Ciao a tutti, oggi facciamo la variazione della principessa Florina dal passo a 2 dell'uccello azzurro del terzo atto della Bella Blumentata. Ho guardato dei video dell'epoca di Marika e ho imparato le braccia e la versione che è quella che hanno sempre fatto all'Accademia. Quindi cominciamo da Caudet Jardin, camminiamo in alta mezza punta fino al centro, ci prepariamo il centro in quante cose davanti. Nella preparazione abbiamo un taglier davanti con le braccia che incrociano davanti e tremano, e un taglier indietro alla braccia alla seconda. E poi facciamo plié, piqué, in écarté, davanti, plié, coupé, è come un ballone finito sul plié. Lo prendiamo in écarté davanti allongé, plié, e pure tenendo con le braccia incrociate davanti le gambe in quinta. Stessa cosa a destra. Adesso facciamo piqué, in prima arabesque, le braccia, hanno la mano che scolta il cellino azzurro all'orecchio, e poi la gamba dietro, passa dalla quinta dietro, e facciamo due ambuatté saltati, di ché, coupé, due ambuatté. Un'altra volta la prima parte. Balloné en écarté, bûrée, balloné en écarté, bûrée. Adesso abbiamo tre ambuatté sulla punta. Uno, due, tre. La gamba fa un flick. E andiamo a fare bûrée in avanti. e plié. Lo facciamo con le braccia incrociate. E adesso abbiamo échappé in questa posa, lo sguardo è diretto sopra i bûrée, battement, raccouci, in passé. La gamba passa dalla quinta. e facciamo due sauté sur pointe, in attitude croisée derrière, allongé. Pas de bourée, échappé, battement passé. Pas de bourée, per un totale di tre volte. Pas de bourée. adesso abbiamo passé con la gamba sinistra, passé, 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 en l'essant, un braccio che fa up, un pointe. Abbiamo dei bourée in sesta, con le braccia che hanno questa posizione qui, come se soffiasse attraverso le vostre dita. E adesso abbiamo tre chaînes e l'ultimo è come un soutenue con le braccia che fanno questo movimento. Quindi le chaînes sono qui e le braccia fanno questo. Per correre all'angolo ci prepariamo in quanto davanti e facciamo sei. Piqué en dedans, le braccia sono alloggi in questa posizione, lo sguardo è en face. E all'ultimo facciamo plié de gage davanti, piqué in primo rabais, la gamba fa dietro fa fa i e a terra in questa posizione qui. c'è l'ultimo faccio. c'è l'ultimo faccio. C'è l'ultimo faccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.